Il recente lutto di Ambra Angelini qualche giorno fa, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, Ambra Angelini annunciava un lutto. Purtroppo dopo tanti anni le è venuto a mancare il suo cane, un pastore tedesco. La cantante ed attrice ha scritto un lungo messaggio da Dio per il suo amico a quattro zampi. Parole che hanno composto tutti i suoi follower che, grazie al loro calore le sono stati vicini. Nel frattempo prosegue a gonfie vele la sua reazione sentimentale con Massimiliano Allegri e di recente sono stati pizzicati di un noto magazine di gossip mentre si facevano delle effusioni in pubblico. Andiamo a vedere nello specifico cos'è successo alla nota coppia. L'attrice è Massimiliano Allegri Beccati che si baciano in strada il periodico di Gossip Diva e Donne ha pizzicato una delle coppie più popolari ed amate del nostro paese. Stiamo parlando della nota attrice Ambra Angelini e dell'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. I due innamorati si lasciavano andare a delle effusioni passionali in pieno giorno e in luogo pubblico, una strada di Milano. Qualche mese fa si parlava di possibili nozze tra i due, ma nel corso di un'intervista ha confessato che al momento sta bene così e non vuole sposarsi. Scoppia la passione tra i due innamorati nella foto in questione pubblicate sul settimanale di Gossip Diva e Donne è possibile vedere una passione accesa tra Ambra Angelini e Massimiliano Allegri? Talmente è forte la passione che l'allenatore e l'attrice non riescono a trattenerla e si sono lasciati andare a effusioni intime che hanno letteralmente fatto impazzire i tantissimi fan della coppia. I due si frequentano da alcuni anni e hanno sempre cercato di proteggere la propria privacy. Nonostante tutto, capita che alcuni fotografi riescano a pizzicarli mentre passeggiano tranquillamente mano nella mano per le strade del capoluogo Lombardo. Ecco lo scatto in questione che di sicuro farà parlare molto ai siti e riviste.